Buongiorno a tutti, ben ritrovati in questo nuovo video. Per chi non mi conoscesse, io sono Max e parliamo ancora una volta dell'eredità di Gina Lollobrigida, perché non si sa che fine abbia fatto esattamente, solo che stavolta viene a parlare il figlio Milko Skofik e lo ha fatto direttamente ai microfoni di Pomeriggio 5, quindi lo ha fatto davanti a tutti in tv, senza lasciare spazio a interpretazioni dicendo sono state dette bugie e falsità e cose assolutamente non vere qui in tv e anche sulla stampa sono state dette cose non vere. Ho pensato che ora è il momento di fare chiarezza. Mi ha molto ferito, molto, sì, la manipolazione di Piazzolla. Fino al 2013-2014 ho vissuto nella villa di mia mamma, poi mi sono separato e in casa sono rimasti la mia ex moglie e mio figlio. E ancora, poi è arrivato uno sfratto, firmato da Piazzolla, che era l'amministratore di mia madre. E così hanno mandato fuori Dimitri da casa. Secondo Milko Piazzolla avrebbe manipolato la madre. Mia madre era ormai fuori controllo, credeva ogni cosa che diceva Piazzolla. Un giorno ho visto una fattura nella cassetta della posta. Era una fattura da 117.000 euro per un'automobile. Non era normale per mia madre, altrimenti non mi sarei allarmato. Lei era molto attenta alle spese. Mai ha avuto la passione per le macchine. Quindi la chiamo e dico, ma questa fattura da 117.000 euro. Che succede? Lei mi risponde, Andrea è un genio, compra macchine e poi le rivende. Io sono rimasto basito. Quando lui è arrivato i conti erano buoni. A Monte Carlo c'erano soldi. Abbastanza per finanziare una vita sostenibile per mia madre. E ancora, quando la guardia di finanza ha visto i conti un po' di tempo dopo a Roma erano rimasti 100 euro e niente a Monte Carlo. Io ho saputo che Piazzolla raccontava a mia madre che aveva una malattia terminale. Ho sentito i nastri in cui mia madre raccontò a Paolo Limiti che Piazzolla stava per morire. Capitolo Rigau. Rigau lo conosceva da molti anni. Io vengo a sapere delle nozze e le chiedo, ma ti sposi? Lei mi dice di sì. Secondo me si sono sposati. Alla fine del maggio 2020 scoprì che i mobili di mia madre stavano per essere messi all'asta. Ho ricevuto una chiamata anonima. Altra vicenda di cui si è molto parlato è il patrimonio della diva. Cosa resta oggi del patrimonio di Gina? Quasi niente. La casa, un appartamento a Pietrasanta dove ci sono le sue statue. E basta. Questo è stato un periodo brutto. Spero che sia fatta giustizia. Spero che la gente che ha rovinato la vita altrui ci pensi due volte prima di rifarlo. Cari amici, per questo video è tutto. Vi ringrazio per la visione. Mi raccomando, lasciate il vostro segno qui sotto, un bel like. E se non siete iscritti, iscrivetevi al canale oppure seguite la pagina. Oh, è tutto gratis. Vi ricordo che in questa pagina si parlerà di gossip tv, spettacolo, politica, sport, curiosità e tanto altro. Detto questo, vi saluto, mi raccomando, vi aspetto al prossimo video. Ciao, un saluto da Max.